Davide Labbrozzi, segretario provinciale Fionchieti, un operaio morto all'adenso, un altro morto sul lavoro in un periodo nero. Torniamo nuovamente a parlare di un dato, di una piaga che questo paese purtroppo continua ad avere e non riesce nel corso del tempo a sanare, cioè la piaga degli infortuni e in questi casi addirittura mortali. Noi continuiamo a sfornare dei numeri da terzo mondo, continuiamo ad assistere in maniera passiva a quello che accade e non riusciamo a modificare minimamente questa grave condizione. L'infortunio dall'adenso è ancora sotto esame, quindi non conosciamo con esattezza le dinamiche, quindi non sappiamo adesso in quale misura attribuire le responsabilità all'azienda o al sistema che ruota in denso. Quindi prima di esprimere un giudizio vogliamo essere cauti e vogliamo prima capire cosa ha determinato questo infortunio. Però il dato di fatto è che ieri un lavoratore è morto mentre lavorava e questa cosa è successa la settimana scorsa alla Di Cecco e questi due infortuni si aggiungono in una lista che per noi è troppo lunga. Le istituzioni devono intervenire, bisogna necessariamente riprendere alcuni ragionamenti purtroppo rimasti in sospeso anche con le istituzioni, perché un lavoratore non può andare a lavoro con lo stesso atteggiamento che a volte hanno i soldati che vanno in guerra. Bisogna intervenire innanzitutto ribaltando dal punto di vista culturale l'ordine delle priorità. La priorità è salvaguardare la dignità del lavoratore, l'incolumità fisica del lavoratore, creare sistemi che possano in un certo qual modo far emergere l'esigenza primaria di invertire una serie di dati che sono drammatici. Poi noi tra l'altro non parliamo mai di tutti coloro che muoiono per le malattie che i luoghi di lavoro spesso determinano, generano. E poi parliamo pochissimo dei tanti infortuni che comunque lasciano i lavoratori in condizioni drammatiche. Noi viviamo quotidianamente situazioni di lavoratori che perdono gli arti, di lavoratori che restano appunto menomati a vita.